Quando Paolo Rosa, primo cittadino di Adro, ha respinto la richiesta di conferire la cittadinanza onoraria alla senatrice Liliana Segre, inoltrata dalla locale sezione dell'Ampi, Paolino Parzani, ex sindaco oggi 81enne, ha deciso di dar vita alla sua ennesima impresa sportiva, inforcando la sua legnano acquistata con i suoi primi risparmi nel 1954 in un negozio di Via Musei a Brescia e di scalare il passo del Tonale sotto la neve. Una protesta perfettamente riuscita lo scorso 3 febbraio grazie a delle semplici catene per auto riaggiustate per il velocipide complice la rimozione dei freni. Allora, siamo partiti con mio fratello in macchina con la bici a bordo, ma le previsioni davano che dalle due in poi avrebbe nevicato facendo il passo. E anziché le due ruote normali che si usa in estate, ho montato le due ruote con le catene. Ho impiegato un'ora e un quarto a fare il trasito. Rai 3 ha dato la notizia e probabilmente sapendo della notizia, al mattino dopo, subito, sono stato contattato dalla segretaria personale e è stata incaricata dalla senatrice a farmi gli auguri e a ringraziarmi per il gesto e il pensiero che gli ho dedicato. Nato l'11 settembre 1939, Paolino Parsani, sindaco per la prima volta nel 1980, ha concluso il suo terzo e ultimo mandato nel 2004. La sua passione per il ciclismo è nata sin da bambino, quando come garzone di un fornaio distribuiva pane in sella alla sua bicicletta. Come atleta nel 1955 vinse la sua prima gara e partecipò a cinque campionati italiani. Ora da tempo pensionato non è nuova imprese di questo genere. Nel 2011, giusto per citarne una, pedalò fino a Strasburgo per denunciare l'inquinamento del fiume Oglio. La salute si mantiene tutti gli anni, all'11 settembre, faccio le scalate alpine. Quest'anno penso di fare il gabbia. Lo Stelvio l'ho già fatto, il Bernina l'ho già fatto e dopo le Alpi a est dell'Italia le ho fatte tutte.